E' finita questa giornata molto bella dove abbiamo avuto l'occasione di vedere Beppe Zullo all'opera e soprattutto questo evento organizzato in maniera fantastica da Cittadinanza Attiva un evento all'interno del programma finanziato dalla Regione Puglia Tutela dei Consumatori L'incontro è stato molto positivo anche perché hanno partecipato anche diverse scolaresche quindi c'è stato proprio un incontro tra nuove generazioni e vecchie generazioni il cui tema di questo evento è stata la sostenibilità quindi un occhio attento al prodotto biologico, al prodotto chilometro zero Grazie! 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 Grazie!